Carissimi amici sono sempre qui dal Muevete di Faenza con altri due grandi amici, voi li avete conosciuti quest'estate dal Baby K, è un piacere essere di nuovo qui con Max Tripicchio e Camilla Battocchio, ciao ragazzi Ciao a te, è un piacere anche per noi ritrovarti Ciao a tutti Allora, come mai al Muevete Max? Ma sinceramente avevamo fatto già un loro evento a San Marino, mi sembra a giugno, ci siamo trovati bene e la collaborazione è continuata, mi ha contattato e noi con piacere siamo venuti Poi questi congressi mi piacciono particolarmente perché sono in Romagna e già che sono in Romagna e già va benissimo Perché Romagna si mangia sempre in realtà È vero, ormai è la nostra seconda casa la Romagna È vero, è vero Io poi sono sempre qua a casa di qualcuno, tra amici, gruppi di donne Scrocca, scrocca No, capito Lo stage che avete fatto riguardava? Salsa in linea, la salsa che insegniamo e direi un livello abbastanza buono, abbiamo anche abbastanza spinto direi, quindi un buon livello Soddisfatti Sì, allora questa sera che siccome sappiamo perfettamente che ci sarà lo spettacolo, con che cosa ci strabiglierete? È con la nuova ed è molto fresca, ha solo un mese e mezzo, è nata da un mese e mezzo, è una coreografia con un po' di son cubano e poi la salsa in linea insomma che facciamo noi Quindi è nuova, è nuovissimo, un'anteprima, è un'anteprima per la Romagna sì, l'ho fatta due volte su a Milano insomma Perché infatti siccome al Baby Cave hanno presentato una bellissima coreografia e subito dopo li avevo sentiti e mi avevano detto che preparavano la novità Siccome Camilla era già preoccupata perché lui organizza e poi dice segna che cosa ho fatto in questo momento Mi ricordo anche la frase che avevi detto, Camilla com'è andato il parto di questa nuova coreografia a questo punto? Allora è andata molto bene, diciamo che negli ultimi due anni è un po' differente preparare le coreografie perché abbiamo aperto la nostra scuola Quindi mentre gli anni scorsi riuscivamo a provare tutti i giorni, tante ore, facevamo solo quello e la sera dovevamo insegnare Adesso dobbiamo incastrare la gestione della scuola, i corsi, le coreografie, quindi insomma è diventato più impegnativo Siamo molto contenti di aver fatto questo passo No, ogni tanto ti devi improvvisare idraulico perché magari c'è il rubinetto che perde No, adesso una volta facciamo solo i ballerini, adesso facciamo tutto Quindi questa MC Dance Studio sta andando molto bene Sì, non ci possiamo lamentare, con tanto sacrificio però sta crescendo insomma Bisogna mai mollare, un giorno non puoi mollare, devi sempre stare lì però siamo soddisfatti per ora Diciamo che poi il nostro binomio Max e Camilla per il momento ognuno ha il suo ruolo fortunatamente Poi abbiamo ruoli talmente diversi che ognuno fa il suo, io mi fido di quello che fa lui, lui si fida di me Ti fidi di me? Abbastanza L'ha detto, siete tutti testimoni Allora ci permettiamo di ridere e mi viene da chiedervi il risultato, riassunto il budget Che cosa è rimasto di questo grande primo evento di quest'estate al Baby King Salsa and Friends Ma assolutamente, soddisfazione a mille quando pensi, ti butti un po' e va, vediamo cosa succede Ma le che va, dai ne usciamo, invece secondo me ne siamo usciti alla grande Per essere il primo anno, logicamente, poi ci sono dei grandi numeri che uno può fare Ma per essere il primo anno ne siamo usciti molto bene Anche perché è stato il primo anno di scuola, il primo anno che abbiamo organizzato un evento Mamma mia, abbiamo finito il BBK che eravamo morti, basta, era agosto che non ce la facevamo più E dovevamo dipingere la scuola, quindi Anche perché il caldo l'ha fatta da padrone Ma la cosa più bella è stato vedere questi stagio dove c'era Camilla Poi avete visto anche degli spezzoni, dei frammenti di ciò che ha chieduto sui nostri social Dove lei insegnava in costume e diceva, oh adesso siccome sono un po' trassudata mi butto in acqua e torno E' da me fare queste cose, con la mia pelle bianca Bellissimo infatti il fatto che eravamo proprio a due metri dalla spiaggia, bello bello Finito ogni stagio ci si faceva il bagno Esatto Allora io ringrazio davvero Max e Camilla per essere stati qui con noi Auguro un buon proseguimento di Moevete, è stato un piacere ritrovarvi, bellissimi come sempre Grazie, ciao, ciao, grazie